Soprattutto ho visto una squadra che gioca bene al calcio e secondo me che ha ancora delle possibilità per raggiungere l'obiettivo salvezza, altrimenti non l'avrei accettato. In più conosco il modo di lavorare di Malesani, so che prepara benissimo la partita e quindi anche questa è stata una spinta in più. Io sicuramente con grande umiltà mi metto a disposizione dell'allenatore e darò il 110% per questa maglia, questo è sicuro. Poi sta al campo giudicare. Ho avuto uno stiramento il 5 gennaio ma è già dieci giorni che lavoro con la squadra, quindi sto benissimo, sono già a disposizione per domenica. Io te l'ho detto, se no non sarei venuto qua, io ci credo fortemente e non bisogna nemmeno guardare la classifica, pensare a domenica per domenica cercando di andare in campo tutte le partite per vincere, questo è sicuro.